Glam, risposta esatta Vabbè, si può fare Vabbè, si può fare Vabbè, si può fare Alla salute, è andata? Poteva andare meglio, però va bene. Bello, picciolo. Ma l'avete fatto schifo comunque. Bastardo. Mi hanno fatto emozionare questi ragazzi. Sono stati veramente bravi. Mi hanno trasmesso la vera e il vero rock. Questo è il vero rock. Questo è il vero rock. Yeah, 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 yeah.